Da questo weekend via Libera e Pedoni sul nuovo marciapiede del lungomare di San Benedetto, interessato dagli ultimi interventi di restyling. I tecnici della CPL Concordia stanno operando sull'impianto di illuminazione, poi il cantiere verrà smantellato. Per riaprire la strada già asfaltata bisognerà però attendere metà giugno, come spiega l'assessore comunale ai lavori pubblici Pierluigi Tassotti, mentre, lo ricordiamo, i parcheggi torneranno a pagamento dal 1 luglio. Siamo agli sgoccioli, purtroppo c'è stato un ritardo di una settimana, qualche disagio in più per gli operatori, specialmente coinvolti in quel tratto di cantiere. Diciamo che oggi, domani, l'asfalto è terminato, termineranno l'asfalto e entrerà in opera la multiservizi che provvederà nella giornata di domani sicuramente a fare la segnaletica orizzontale e verticale della pista ciclabile. Sabato mattina farà la segnaletica verticale, quella blu, per i parcheggi e pedonalmente riapriremo il tratto compreso di questi 500 metri. Poi dovremo aspettare per forza due o tre giorni, perché comunque in ogni caso per l'asfaldatura e per le strisce, sicuramente fra lunedì e martedì riapriremo al traffico veicolare entrambe le corsie. I lavori inizialmente avrebbero dovuto fermarsi a Las Vegas, ma prima dell'estate si è riusciti a completare soltanto i primi 500 metri. Un progetto questo che presta particolare attenzione anche alle disabilità con un semaforo sonoro a chiamata per l'attraversamento. Quasi al termine del cantiere verrà installato, nei prestiti via video, un semaforo per gli ipovedenti che permetterà l'attraversamento mediante chiamata. Chiaramente il semaforo chiuderà il traffico sia della pista ciclabile che il traffico veicolare. E' attualmente in corso anche la ristrutturazione delle storiche balaustre disegnate dall'ingegnere Onorati quasi 90 anni fa. I lavori sono arrivati all'altezza della concessione numero 7, ma l'assessore promette che ci sarà uno stop a fine giugno per poi riprendere il restauro a fine estate. Grazie